signori solo due ore fin del 2006 con bruce willis una specie di poliziesco thriller uno degli ultimi film abbastanza carini di bruce willis è un buon film un otto anche se a un certo momento quasi si perde via ma saprei che altro dire volete guardarlo si vale ancora la pena non è come gli utili di bruce willis che si è perso via sono fatti male questo è ancora potabile basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato mai ciao